Quali archetipi nascondono gli inchiostri di l'Orkana? Chi saranno gli elementi più rappresentativi per ognuno di essi? E come potranno combinarsi tra loro per sposarsi al meglio con il vostro stile di gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orkana ha annunciato settimane fa l'arrivo del suo secondo set, intitolato Rise of the Floatborn, che vede il ritorno sui campi da gioco degli eroi Disney intenti ad accumulare punti lore per raggiungere la vittoria finale assieme al proprio illuminario. Ma se da una parte c'è un bel gruppetto di collezionisti che non aspetta altro che il day one per la commercializzazione di tale prodotto, dall'altra c'è il lato giocato che analizza con occhio attento ogni singolo spoiler rilasciato dalla casa madre con l'intento di scoprire nuove sinergie tra carte e archetipi di deck. Ed è proprio quest'ultima categoria che tratteremo quest'oggi assieme ai signori di Fantasia Store, con i quali ho collaborato attivamente per la stesura di un articolo che ne ha trattato gli aspetti e che potrete leggere attraverso i link che, come sempre, vi lascerò in descrizione. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali archetipi rappresenteranno ogni inchiostro presente in l'Orkana. Andiamo a dargli un'occhiata. Ambra Se ti piace assemblare una specifica combinazione di carte per passare in vantaggio rispetto agli avversari, l'Ambra è il colore giusto. Le carte appartenenti a questo inchiostro come Ariel Spectacular Singer e Be Our Guest ti permettono di cercare risorse direttamente nel mazzo per recuperare i pezzi fondamentali alla riuscita della tua strategia di gioco. Allo stesso modo, carte come Hayes, Lord of Underworld e Part of Your World recuperano i tuoi personaggi più importanti dalla pila degli scarti, impedendo all'avversario di sbarazzarsi di loro troppo facilmente. L'Ambra permette anche di guarire i tuoi personaggi, rimuovendo da essi dei danni con carte come Rapunzel, Gifted with Healing, Healing Law e Hakuna Matata. Un effetto molto utile per preservare gli elementi fondamentali della meccanica sinergica del deck. E anche grazie a protezioni di questo tipo se Stitch Rockstar può restare in campo più a lungo, facendoti pescare carte su carte. Un effetto unico, interessantissimo e utile in ottica combo è quella di Lantern, che riduce il costo di un personaggio permettendoti di giocarlo un turno prima. L'unica carta in tutto il gioco con questa capacità, se ovviamente escludiamo Just In Time. Ametista. Questo inchiostro conta nelle proprie fila alcune delle carte a costo 3 più forti del gioco. Rafiki, Mysterious Sage, Friend of the Other Side, Maleficent, Sorceress ed Elisa, Snow Queen. Con questi strumenti sarà facile manovrare le fasi centrali di un incontro senza esaurire le carte in mano. Come se non bastasse, Ametista ha accesso alla combinazione Magic Broom e Mickey Mouse Wire Sorcerer, che consente di soverchiare l'avversario rimettendo in gioco le scope magiche ogni volta che verranno distrutte in combattimento. Questo inchiostro non va sottovalutato nemmeno nelle fasi più avanzate della partita, dato che ha accesso a personaggi costosi ma molto molto potenti come Elsa, Spirit of the Winter e Ursula, Power Hungry. Smeraldo. La patria di chi preferisce imporre una strategia aggressiva senza però rinunciare a mettere i bastoni tra le ruote all'avversario. Di solito le carte appartenenti a questo inchiostro andranno all'avventura per un numero di punti lore sopra la media e saranno complicate da rimuovere dal campo di battaglia. Alcuni personaggi presentano l'abilità Evasive, che li rende molto difficili da bandire in una sfida, come ad esempio il fortissimo Genie on the Job. Altri invece impongono dei costi all'avversario come Flynn Rider, Charming Rogue, che obbliga a scartare una carta per sfidarlo, o Kuzco, Temperamental Emperor, che, se sfidato, si porterà sempre dietro ogni aggressore. Do It Again e Lady Tremaine offrono un interessantissimo pacchetto, che ci fa riprendere le azioni dalla pila degli scarti, particolarmente forte in combinazione con carte acciaio come Grabio Sword e A Whole New World. Al momento queste carte smeraldo faticano a trovare un'applicazione veramente competitiva, ma vale la pena tenerle d'occhio con le nuove uscite. Rubino. Questo inchiostro eccelle nel rimuovere i personaggi avversari dal campo di battaglia e si trova a casa nei mazzi che puntano a controllare la partita. Cardine di questa strategia è la carta Rubino Be Prepared, che appena giocata bandisce tutti i personaggi in gioco. Effetti di questo tipo si trovano in diversi giochi di carte e vengono spesso soprannominati Vratta, in onore della leggendaria carta di Magic the Gathering Vrat of God. A completare l'arsenale di distruzione del Rubino ci sono Dragonfire e Maleficent Monstrous Dragon, che bandiscono direttamente, ma anche personaggi capaci di vincere la maggior parte delle sfide come Maui Hero 2 Hall e Gaston Arrogant Hunter. I glimmer rossi sono, in generale, ottimi combattenti e questo ben si sposa con una caratteristica unica del Rubino. La capacità di rendere nuovamente preparati i personaggi. Carte come Shield of Virtue, Fan the Flames e Loof Instigator permettono ai nostri personaggi di affrontare più sfide in un solo turno, mettendo a ferro e fuoco il campo avversario. Rubino offre anche un buon numero di carte con l'abilità Evasive come Goofy, Daredevil, Mickey Mouse, Brave Little Taylor e Pongo All Rascal, che permettono a chi li giocherà di accumulare punti lore praticamente indisturbati. Zaffiro, l'inchiostro per chi non si accontenta di posizionare una sola carta a turno nel calamaio. Grazie a carte come Grammatala Storyteller e One Jump Ahead, gli Illuminatori Zaffiro hanno accesso più rapidamente alle risorse necessarie per giocare carte potenti. I personaggi Zaffiro, come quelli Rubino, tendono ad avere dei valori di forza e volontà superiori alla media e sono quindi molto interessanti in combinazione con la carta Ambra Rapunzel Gifted with Healing, che può curarle e, nel frattempo, pescare fino a tre carte. Zaffiro interagisce inoltre con l'avversario con carte come Let It Go e Haze Infernal Shemer. Si tratta di rimozioni molto solide, gestiscono qualunque personaggio, ma da usare al momento giusto e con parsimonia, in quanto donare un inchiostro all'avversario potrebbe farci perdere terreno a inizio partita. Nelle fila di questo inchiostro troviamo anche l'interessantissima carta Ariel Was It Collector, che torna pronta ogni volta che un oggetto entrerà in campo. In combinazione con A of the Fate e altri personaggi che interagiscono con questo tipo di carta, come Bell, Inventive Engineer e Maurice, World Famous Inventor, può accumulare tantissima lore in pochi turni, vincendo la partita praticamente dal nulla. Acciaio. Probabilmente il miglior inchiostro di supporto ed altre strategie, visto che è l'unico a poter rimuovere in maniera efficiente i personaggi nemici con azioni e abilità che fanno danni diretti. La regina delle carte Acciaio è sicuramente Tinkerbell Giant Fairy. Forte se giocata a costo 6 e semplicemente devastante se messa in campo con Shift 4. Grebio Sword, che può eliminare tutti i personaggi in campo nelle prime fasi della partita, la segue nell'elenco delle carte che non vorresti mai vederti utilizzare contro, soprattutto se giochi un mazzo aggressivo. L'acciaio dispone anche di alcuni effetti unici ed interessanti per la costruzione di un mazzo, come A Whole New World, che fa pescare ad entrambi i giocatori una nuova mano di sette carte, Brake e Beast Underheaded, uniche carte al momento in grado di distruggere gli oggetti, nonché Beast Mirror, un solido motore di pesca per inchiostri che ne sarebbero privi come Rubino. È doveroso aggiungere inoltre che, nonostante alcune caratteristiche prevalenti, ogni tonalità ha rimandi a supporti per strategie diverse. Un mazzo Rubino non deve per forza essere difensivo ed un mazzo Smeraldo potrebbe tranquillamente puntare a vincere una partita lunga. Sta quindi all'abilità e alla fantasia del giocatore trovare la migliore combinazione di carte e inchiostri per realizzare il proprio piano e vincere accanto ai propri eroi Disney preferiti. Prima di concludere, volevo ringraziare ancora una volta i signori di Fantasia Store per aver contribuito alla realizzazione di questo contenuto ed invitandovi a visionare la sezione dedicata a questo meraviglioso TCG targato Disney, preordenando i tematici ancora disponibili in negozio e restando aggiornati sull'uscita degli altri articoli disponibili in catalogo. Per farlo vi basterà selezionare la voce Avvisami quando disponibile per ricevere una mail nel momento in cui il prodotto tornerà fruibile al pubblico. In più, se siete ancora indietro con la vostra collezione di The First Chapter e vi mancano poche carte per poterla completare, vi consiglio di sfogliare il catalogo delle singole, dove potrete ottenere unicamente l'elemento o gli elementi che vi serviranno per poter portare così a termine la vostra raccolta. Come sempre vi lascerò tutti i link utili in descrizione. Questo dilemma mi ha attanaghiato nelle primissime fasi del gioco, ma a forza di conoscere meglio le dinamiche che lo muovono, di tutto mi sono servito a parte dei quattro inchiostri che vi ho nominato poco fa, vertendo infine sullo zaffiro acciaio che ha visto la nascita di un Ireal Item OTK che personalmente non mi è dispiaciuto affatto come deck e, al quale integrerò eventuali rinforzi, si arriveranno con il secondo set. E voi quale binomio di inchiostri utilizzerete per dare battaglia agli altri illuminatori? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.